E' giusto dire la verità, è inevitabile avere paura. Capisco perfettamente che sia giusto rispettare le norme, ma allora esse siano oggettive. Non c'è solo il coronavirus, che non è l'unica fonte di morte, anzi è l'ultima fonte. Molto più grave è il cancro. Ci sono 80.000 persone che muoiono di cancro ai polmoni in terapia intensiva, quindi occupando quelle stanze di cui si parla in questi giorni, per il fumo. E allora come fare un decreto in cui sono aperte le tabaccherie e consentito che una persona vada a prendere ciò che lo porta a morire? Se stiamo combattendo contro una malattia grave, contro un virus che porta alla terapia intensiva, dobbiamo combattere anche le altre malattie che possono portare a quelle condizioni. E allora stupisce che chi chiede di rispettare le regole dica che è giusto che siano aperte le tabaccherie. Gerolamo Lacuaniti si è dichiarato fumatore, ha quindi ritenuto che fosse assolutamente legittimo, in ossequio al decreto del governo, che le tabaccherie siano aperte. No, perché esse contribuiscono, vendendo il fumo, a una malattia più grave del coronavirus che è il cancro ai polmoni, da cui la polmonite con cui muoiono gli ammalati di cancro. E allora non è che dobbiamo vivere in un unico incubo e non proteggerci da altri rischi. E così è importante che sappiate che questo allarme sociale che ci ha portato a vivere in queste condizioni sembra attribuire la causa di morte a una sola fonte. Vergogna dell'informazione. Sul televideo della RAI, abbiamo letto in queste ore. Nelle ultime 24 ore ci sono stati 250 decessi con coronavirus e non per coronavirus. Quindi qualcuno che è stato colpito anche da coronavirus e magari aveva già il cancro ai polmoni è morto in quella condizione in cui tutto si riferisce all'unica fonte che oggi si terrorizza. Ma non è morto di coronavirus. No. Dovete saperlo. È giusto che io vi rassicuri sul fatto che questo incubo confonde alla fine anche i numeri. Perché le vittime, 250 persone, erano affette da altre patologie e molte di loro dà cancro ai polmoni per il fumo che è consentito, che è incitato dalle tabaccherie aperte. Quindi nella giornata di ieri, zero morti per coronavirus. Pare che dall'inizio i morti non per complicazioni regresse, ma assolutamente per il virus, erano solo due. Quindi stiamo parlando allora di qualcosa che noi vogliamo assolutamente riferire a una sola fonte, creando un incubo che è quello per cui non possiamo guardarci e parlarci. Complimenti per essere l'unica voce sensata, così uno mi scrive, e per fortuna così alta fuori dal coro. Le chiese, i tabaccai, il coronavirus. E gli altri 248 siamo andati a vedere perché sono morti? Li abbiamo pianti per una ragione di malattia che probabilmente si poteva impedire o prevenire tenendo chiuse le tabaccherie, proibendo il fumo? Ecco. Ora mi pare che sia sufficiente per dire che è giusto difendersi, ma non si può vivere pensando che l'unica ragione di morte è il coronavirus. I numeri che vi danno sono numeri che parlano di morti per altre ragioni a cui si aggiunge il coronavirus. Quindi non per il coronavirus, ma con il coronavirus. Mi pare giusto ribadirlo.